Balaclava è una produzione che è nata il 24 dicembre dell'anno scorso tra le mani di omache e dopo poco si è aggiunto a lui anche il romantico. Per me sono due producer molto forti quindi non vedevo l'ora di vederli a lavorare a qualcosa insieme e il fatto che casualmente lo sia stato Balaclava è stato super figo. Dopodiché c'è stata la ricerca o del featuring Julieta di cui mi sono subito innamorata perché è un flow unico delle linee melodiche che in un ambito pop mi sembravano anche degli azzardi e che ho molto apprezzato e me l'hanno subito fatta stimare tanto e in più cercavamo qualcuno appunto si divertisse insieme a me sul pezzo e lei era perfetta quindi con Totali e grazie a Totali siamo riusciti a contattarla, noi scrivevamo su Instagram e a luglio siamo riusciti ad averla qui. Abbiamo registrato il pezzo insieme in studio ed è stato bellissimo perché mi ha dato veramente tanto sia conoscerla da un punto di vista umano sia in quanto a professionalità anche face to face in una stanza a registrare non conoscendo nessuno e dando comunque il massimo. Quindi è stato molto bello anche perché Balaclava è un pezzo che parla di forza interiore tra propria luce e quindi tutto ciò ha reso veramente il pacchetto intero Balaclava molto significativo per me. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.